Cosa c'è laggiù? Dove? Ah, la natura! L'alba mi fa sempre effetto Tanto Ieri sera stavo così bene, tutto truccata Adesso mi sento tutto appiccicosa Ma a me che mi interesa più di questo? Io ormai mi voglio ritirà Sento che devo far bene Però mi sa che più se ne ritirano più ne vengono fuori, che ne so Se ne ritirano due e ne vengono fuori dieci Nel 65 sarà tutta una depravazione completa, ah no? Mamma mia che schifetta ne verrà fuori Ehi ragazzi venite a vedere, c'è un mostro Cos'è? Caterina, lauvi un mare, capito, non trovo nulla. Snelo! Oh, terrible! Oddio, lo spero! Io ho la più bella di tutti! Mmm, ma è vivo! Questa è morta da tre giorni! Le masche o femmina? Ma che c'è da guardare qui? Perché? Che bella! Le vuoi bene la mamma? Bravo, bisogna voler bene la mamma! E' mortato! Perché non lo compriamo? Ce lo vengono? Ma io ne spero, ma non mi puoi lasciare! Ma, ma! Che strano! Chi sa da dove viene? Beh, è una curiosità, vorrei saperlo! Perché di Australia? Ma che strano! Questa è quella davanti e lì dietro? Però, poverino! E questo insiste a guardare! Ehi! 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 Qualsia? Non capisco! Non si sente! Non si sente. Ehi! Det orata! Le dalle le dalle qualcosa che si perceiva! Non sento, non si sente. 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 Non sento, non si sente.